La settantonesima edizione del Gran Premio Lotteria di Agnano, domani il gran giorno con 24 sfidanti nelle tre batterie da 8 cavalli, ma già da ieri sono arrivati i primi verdetti. Fabio Tarantino. Senza Covid avrebbe avuto ottime chance di diventare edizione record per presenze di pubblico. Dovrà accontentarsi di mille spettatori il settantonesimo Gran Premio della Lotteria in programma domani all'Ippodromo di Agnano. Alla manifestazione che sosterrà la fondazione Teleton e il T-Gem, devolvendo quota parte dei biglietti in favore della ricerca, parteciperanno i più straordinari interpreti del trotto mondiale. Il Gran Premio è cominciato ieri, la Corsa delle Stelle è stata vinta da Vieste dei Greppi, il trofeo Indal da Theodor Griff nella batteria A e Algeria Jet in quella B. Per i gentlemen campani del trotto vince Barcella Burlon, per il Memorial Castelluccio il primo posto è di Top Gun America. Prevista oggi la settima speed race Emilio Giuliano, la prova internazionale sui 200 metri in batteria e finale, domani il Gran Giorno. 24 saranno gli sfidanti nelle tre batterie da 8 cavalli che per quasi 800 mila euro qualificheranno 9 finalisti sullo sprint dei 1600 metri. Grande attesa per il cavallo francese FaceTime Bourbon dell'imprenditore campano Antonio Somma, si tratta del cavallo più forte al mondo con 24 vittorie in carriera e il recente trionfo del Prix d'America Parigi con quasi 2 milioni di euro di somme vinte. Tra i suoi rivali più accreditati all'altro angolo del ring c'è Zaccon Joe, il nipotino di Varenna, che oggi corre per la fondazione Teleton e per il proprietario napoletano Giuseppe Franco. Sport il calcio domani alle 15 il Napoli sfiderà al Vigorito il Benevento Gattu.